In duello anche lui con un avversario, vediamo un gruppetto compatto, il numero 90 Alessio Baglioni che ha recuperato dopo la scivolata, anzi sta provando già ad attaccare Paccaniella. Torniamo intanto nella lotta per il trofeo Vespa a 135, 4 tempi tra Benini e Birtele, non è ancora finita questa gara del trofeo Vespa, guardate Birtele come prova ad infilarsi in ogni centimetro di pista qui sul circuito di Ottobiano, vediamo se proverà nuovamente l'attacco su Benini che guida in sicurezza, Ma Birtele lo sorprende ed ecco che è arrivato l'attacco di Paolo Birtele, numero 94 Vespa gialla che vediamo all'attacco del rettilineo, manca poco alla conclusione di questa gara del trofeo Vespa, Benini ci prova ancora, lo attacca all'interno, vediamo Birtele che tiene la corda ma si riaccoda, si riaccoda al pilota del Poi in Racing Team, Ecco nuovamente l'attacco di Birtele, guardate come cambiano le marce.